E saluto a tutti gente con Jinkei che parla e sono qui con un nuovo episodio di Kilibe di doppia l'attacco Nell'ultima puntata abbiamo fatto il livello 7 e oggi sono qui per fare il livello 8 Che sembra essere... New York City of Meta Knight ma è tutto un livello dedicato adesso Vabbè, livello 8, galassie giocose Ok, non è un rifiamento al civi stavolta E ovviamente sembra anche qui il labirinto degli specchi Ok, non lo aspettavo Eh, ok, va bene Ablitta, bolla Ok Fammi entrare, grazie Vabbè Ho già l'inventario pieno, tra l'altro La lancia a prescindere dalla bolla Non vorrei capire quando è che lancia quella bolla gigante Sì, se vado in avanti mentre la faccio Ok Ah Mamma mia, quel paese No, 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 non mi piace Ah Dai Stress Casse Meno male che quanto pare anche il mio cappello conta come hitbox Spada Boh, ce l'ho già Tutto in bolla l'abilità, quello che è in tasca per ora E mi serve l'abilità spada adesso Ok Vorrei non avere a che fare con questi esseri Ah, stessi li potremmo attivare anche loro I seri sì, però Boh No Ogni volta mi dimentico come rispawnate tutti Ah Nulla Sembra che devono crollare, ma niente Ok Vorrei avere cibo In tasca Almeno fammi arrivare la prossima loading zone, per favore Ah, vuoi essere succhiato Oppure vattene anche così Nooo Una stanza piena di queste non è mai un buon segno Ah, io sono anche stupido però Abbiamo visto che queste catene non servono a una mazza Ah, però aspetta Questo qua è tutto metallo Quindi elettriciato tecnicamente Vediamo se lo fa anche qui Ecco cosa servono le catene Sono stupido Mi fa piacere che abbia questa cosa nel gioco di per sé Eh, però qua solamente una ci arriva A lui Ok, grazie Oh 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 D'attenzione No Vai via te Ma ti arrivano Ah, ho compito un interruttore Questo sì Devo entrare nel barile What? Non mi posso muovere però Ok, va bene Meccanica Ah, ecco cosa serve Meccanica assai interessante Non ci credo Ok, sono pronto per le botte Eh no Non me lo fanno passare Eh? Ok Dove? Beh, animale ce l'ho già in tasca Eh Eh Lo uso così lo prendo questo Non mi piace quando ci sono troppe direzioni Sono andato avanti Please Forzieri Dove saranno? Sono già quello grosso Uso Cura Dai Che avevo colpito Senti Va col paese Wow Stupido Topi Non ce l'ho già in tasca È automatico Ok Oh Cos'è Un cannone in faccia Ma grazie Va bene Quindi tutte le altre casse Sono in quella roulette Io che ne sapevo Che poi era l'ultimo Ah Rotolo UFO Era l'ultimo Che mi mancava Effettivamente Non pensavo di trovarlo Subito Sono un po' All'ultimo di tutto Comunque Per ora Mi viene a pensare Che questo qua sia effettivamente L'ultimo mondo Ma anche se ne ho visto Un altro Su una mappa Quindi non ne ho idea Aspetta Non ho controllato Se effettivamente Questa cosa Questa cosa Ha più Meglio che esca Sì Atracass Che magari Facciamo tutto Il livello Di ricerca Di tesori Che non esistevano Neanche Ah E dai Sembra saltabile La cosa Da Oh Questi cosi Che odio Ciao Ciao Ho attivato L'interruttore Vediamo di fare La meccanica Senza distruggere Il barile Ecco Ok Rieccoci Diagonale in alto Non è una scelta Un lecce lecce Perché Vabbè No Vai a quel paese Ok Grazie Per la bellissima Cosa Ok Una candela Accessibile Non è accessibile Sta candela Ok 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 Va bene Va bene Benissimo se è così Non posso tipo fare anche col fuoco No Va bene Ah Ah Devo scegliere Quello Quello Giusto Ah Si Ok Ok Calma Sembra Totalmente Opzionale Non provare Non provare a scappare via Ah È lo stesso Ups Dai Vuoi entrare in quel Diagorale Ok Miniboss Sai per una cassa Almeno Spero Che pizza Che i vecchi boss Non hanno questa cosa Di tornare indietro Come quelli nuovi Stranamente Meccaniche Che sono dimenticate Di implementare In quelli vecchi Non si sa mai Che mi servi Ecco infatti Per questo Sto sfidando Un miniboss Per quella schifezza In quale stanza Non sono stato Adesso Ok Qua non sono stato Oh Che cacchio Sto Ma dammi Direttamente L'abilità Yo-Yo E basta È ovvio Che vuole Che la usi Ah Grazie Beh Non era tempo Ok Adesso Vai Ok Contento così E sono andato avanti Boh Ottieni Te la so stupida Se Sono andato avanti Quindi Quell'altra strada Era totalmente Inutile Oh Stai buono Abilità Yo-Yo Scappa pure Con quel forciere Grazie Banca davvero poco Quindi Non so quanta roba Posso ottenere Puzzle Anche puzzle Mi sa che è l'ultimo pezzo E Oggi di guarda Vabbè Le musiche Non ho controllato Quante ne ho E 8-2 Vai Forse in questo Mondo ce ne saranno Anche di meno Però ci sarà Di sicuro Il livello Extra Con L'ultima metà Di cuore Che mi manca Probabilmente avrà Solo una cassa Al suo interno Uh Abilità magia Sì 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 Fermati Grazie Uh 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 Colocco Sério Efectivamente Qualcosa Boh Che cacchio Non era come pensavo che avrebbe fatto Pensavo sarebbe andato un po' Distruggendo i blocchi Sì ma pensavo Ci andasse sopra comunque No Ogni volta che vorrò risucchiare qualcosa Qui succhiera il blocco Perfetto C'è motivo Ciao Meh That's it E vabbè, ok, era abbastanza evidente lì Elettricità Non me la dai, quaver Ah, non posso neanche tornare indietro Wow, è l'unica volta che ho visto fare questa cosa in Kirby Oh, non è una strada di ritorno Nooo Perché? No Questa cosa è solo odiosa No, 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 fammi ritornare indietro E vabbè Anche qua mi sa che prenderò solamente la casa grande a questo punto Una l'ho persa di sicuro Grazie per il non ritorno Ok, non me l'aspettavo Ma che cacchio fai? Si è buttato per mangiarmi, ma che... Beh, lì è corrente No, grazie Vai via Sotto c'è qualcosa? Oltre a pesce assassini Posso, avrò occasione di ingoiarlo di nuovo, sto coso? Ok, grazie Uh, guarda il di dorato Vieni qua Ok Ho fatto di fredda Ho una ciliegia da buttare Oppure... Boh Questo è uno degli squeak che spawna solamente Dopo aver preso la cassa Quindi immagino sarei un storo doc Meno male, perché stavo Storo Ah, fantastico Oh no, ci siete voi Ma vai a quel paese Vabbè, sappiamo dov'è la cassa qui Un pezzo di moneta... Di medaglia E mappa segreta Un pezzo di medaglia se non sbaglio me ne mancano Ok, no, è completo Kirby è un fantasma Medaglia fantasma Ok Quello che ha fatto Non so se lo ve... Oh Ok, non penso sblocarsi anche quella Ecco che la serve quella parte centrale Ok, mi fa piacere Vabbè, vado a prendere velocemente il forziere Ok, ho ottenuto il forziere Tra l'altro, mentre ho giocato a questo livello ho scoperto più cose Uno, quando sono entrato a livello, innanzitutto lo spray merando Ok Quando sono entrato a livello ho ancora in bocca qualcosa Era quella cosa lì che non pensavo si trasmutasse tra livello a livello C'è come in bocca E seconda cosa, quanto pare l'abilità che sblocchi con ninja è camminare sull'acqua Va bene Interessante Non so se andare a vedere Questo qua, tecnicamente, credo si capisca cos'è È la stanza di tutte le abilità Carino perché quando vorrò effettivamente scegliere Soprattutto questo gioco che ha l'inventario Addirittura l'abilità UFO Interessante Questo forse non lo prendo anche Resto, abilità sonno proprio perfetto Eccolo Va bene, il gioco ce l'ho già spoilerato Non pensavo ce lo dasse anche in questa stanza Ma quella medaglia che abbiamo composto Ha sbloccato dei fantasmi che sono in diversi livelli nei mondi E praticamente una volta sconfitti quei mini boss Che sono i fantasmi stessi Ti danno questa abilità Che è l'abilità fantasma È figa Mi dispiace che te la diano tipo a fine gioco È figa perché comunque ti permetti di Impossessarti di nemici Quelli che vuoi Non so mini boss ma Insomma Diventi un fantasma Perché tu fai quello che vuoi con i nemici Potremmo provarlo forse Non so quando esattamente Quando possiamo un po' voglia Perché mi metti tutti i nemici in faccia Laser? Boh Io dico cosa mi dovrò sbarzare prima o poi L'abilità UFO Tanto mi devo sbarzare Comunque C'aveva Questa qua è così L'altra abilità laser No? Scusa Nooo Vabbè comunque ecco cosa sbarcchi Con l'abilità UFO Hai un coso attorno Che ammazza tutti Può essere pratico Spero che l'abilità laser Non mi serva Per casse Anche se forse sì No eh Vabbè Vabbè Però max è intometro Non mi sembra comunque pratico Come cosa? Senti Via Boh Devo dirlo L'UFO mi sta un po' deludendo In questo gioco Non ammazza tutti come speravo No Grazie Ci potrebbe servire Anche se ne ho un'in tasca Però Se e come Se ci serve Cassa Devo per forza andare con te Vai via Per favore Eh Serve un interruttore Per la cassa Beh Di abilità animale Non ci mancheranno Almeno Come ho detto Lì c'è l'interruttore È a tempo Ah Posso Posso prendermelo qui Dove cavolo devo andare Però Ah sotto Io Se è a tempo Al massimo adesso Crio Il percorso Poi Avete visto Quanto è lento L'abilità animale Beh effettivamente Se spammi Pensavo avesse Il suo limite Però Forse dipende Letteralmente solo Da quanto veloce spam All'inizio è riuscito Ok Interruttore Sei ancora attivo Ok Quindi o dai tanto tempo O resti attivo Sì Spacca Grazie Vai Ok Devo ricordarmi Che sei santo Ok Non mi aspettavo Quello Vai Di Stupido Cosa Minuscolo Se salto Riesco a fare La rivella Quello che è Ma in maniera Molto veloce Abbiamo visto Che le scavi Sono da questa parte Quindi Ok Bellissimo Quando Vai lì Tranquillamente Poi ti fai ammazzare Del crimine E poi ti fai ammazzare Eh rompo un ghiaccio In questo modo Utilita qualcosa Boh Perché tu ti stai Unita sonno Anche quello lì È una bella domanda No No Non è quello che Non è quello che Va a fare Oh Ok Continuto Continuto regativo Vabbè Sono pieno Mi spiace Adesso posso Vedere E dire letteralmente La vita che voglio In tasca Quindi Niente Casse E dove mi parte la stella Dai su Non possono essere così cattivi Con la cassa Grazie Ciao Ah abilità Abilità UFO Ci sono Va bene Se ce le danno serviranno a qualcosa No Ah Oltre a farsi ammazzare Tutte militabili e volanti ci danno Ok Ah Posso fare solo così Che bello Faccio tremare lo schermo Come non so cosa Però E mi ammazzo anche Casse Ti prego Prima di arrivare a quella grossa Ci deve essere ancora una È qua dentro Vero Ci sarà una porta Lì dentro Qualcosa del genere Ah È difficile Attivare la calda di abilità So che devo correre Mentre lo faccio Però E dai Oh grazie E cassa Va bene Che cavolo dire Sono tutte cose che mi piacciono Vabbè Ciao Lecca lecca Wow Come Mi hanno Traversato Mi immagino che sto porti alla cassa grande Chi ci sarà Doc Vero Sì Oh Grazie Dove cavolo devo andare Dove cavolo devo andare Oh cos'è No Di nuovo Dove sei Dove è la cassa Dove è la cassa Basta Fai comparire Sti UFO Dove è la cassa Ah Ce l'ho Ok Scusate Però effettivamente Che devo fare Avanti Non mi fa andare Eh Basta UFO Nel cavolo Oh Grazie Si è crepato Ora Ah Fammi andare Via Andava molto veloce Stavolta il cannone Per qualche motivo Spray Carbonella Mezza vita Ho tutte le mezza vite E se non sbaglio Adesso ho tutte le tinte Perché all'inizio dell'episodio Me ne mancavano due Ma ne abbiamo prese due Io pensavo fosse Nel livello extra Però E infatti C'è un motivo Avevo ragione Ma almeno così Dovrei avere tutto completo Adesso Quari tutti Faccio vedere Tanto per Che luogo misterioso Mappa segreta È di Dreamland Si Sì 7 su 7 Questi sono I puzzle Ce ne sono 4 Non granché Insomma Non siamo Ai livelli di Star Allies I stomaci Ce l'avevo già tutti Prima di iniziare Prima di iniziare Il livello La medaglia I coloranti 23 su 23 Esatto Anzi no Quelli lì sono Non sono i coloranti Sono i cosi per le abilità Coloranti invece Dovrei averceli tutti Sì 19 su 19 I chiavi Ce le ho tutte Sembra che non conti Con il mondo dello spazio Quindi mi sa di sì Va bene Che dire Abbiamo Abbiamo Un frutto tempio Delle abilità Prima di andare dal boss Che non conosco Non so se è già Il boss finale Sì Mi sa di sì Allora Dovevo già prepararmi Dannazione Cosa mi può essere utile Non so effettivamente Che fare qui Quindi Boh Innanzitutto ci sono Due casse Per qualche motivo Ma Entriamo Io mi sto preparato Come se mi stessi preparando Per il battaglio boss Finale In caso lo fosse Quindi Buondì Ho bisogno Che questo potesse Essere una buona abilità Perché so che è volante Il boss Però mi sta ammazzando È male Cacchio Non volevo Questo Non mi ero preparato Per nulla Allora What Proviamo un'altra arma Che mi sono portato dietro È un po' più fisica Ma Eh Parasole Può proteggermi da Beh Dalle bombe che lancia Provo Au Non la stava neanche Tirando a me Quella Che pastella No Non posso nulla Ve le sue mosse Stai buono Stai buono Au Che sarà Difficile Non ho più Gli altri Tre kirby Che Ammazzano Per me Non che facessero Molto Eh Ah Che cacchio Ok La triplastria È abbastanza L'uso 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 Ok, non male. Dove? No! Ok. Basta un attimo! Fermo! Dai, fammi fare questo stupido colpo finale! Per ora? Kirby, tripla campana. È arrivato. Sì? Ah! Scusate, pensavo che stessi preparando la materia. Sì? Dico, ok. Ecco perché ci sono due forzieri, forse. Quello lo prendo volentieri. Ne ho altri due, però. Grazie. Grazie. Dai, però così sei curioso. Mi stai curando, non ammazzando. Ricordati gioco. Ok. Si inizia. Sta qua che sembra una stella con la brita plasma. Non conosco i suoi attacchi. Oh, ok. Non credo che dovesse andare così quell'attacco, però. fammi guiare, grazie. Fammi... Non ho capito quella differenza tra la verde e la rosso, questo no. Forse le sue invulnerità, forse le più vulnerabili al fuoco quando così. E il contrario. Quale qualsiasi cosa rappresenta questa cosa verde. Vai, maxi tu mi tocca. Quindi un maxi metto su tre usati. Il gioco si aspetta che comunque ne abbiate tipo solamente uno. No! Non ci credo. Ah! Dimentico sempre che ho fatto la cavolaccia. Dimentico sempre che ho fatto la cavolaccia. Fammi andare in via. Ok. E' già finito. Lo scrigno del tesoro era prigionio di Dark Nebula, signore di sottosuolo. Meta Knight conosceva il segreto dello scrigno. Ha lottato contro Kirby per impedire il ritorno di Dark Nebula. Gli Squeak sono partiti per terre lontane in cerca di altri tesori. Nessuno sa dove siano andati. Ora Dreamland potrà finalmente tornare a... Potrà tornare la pace. Ma... Chissà dove sarà andata a finire la fetta di torta di fragole di Kirby. Tornando a casa, Kirby non riesce a smettere di pensare alla sua torta. Fine. Ma... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.